28 marzo 2018 Milano da sinistra, Gianluca Gallo, Giuseppe Panagia e Alessandro Iodice, l'unione fa la forza, si dice. Lo sanno ben Alessandro Iodice, Giuseppe Panagia e Gianluca Gallo, i tre azzurri che formano la nuova vincente squadra del kata italiano. Il karate è prettamente uno sport individuale, sul tatami si dà soli, di fronte a te un avversario da battere per arrivare l in alto, dove stanno i grandi dello sport, ma se sei parte di un team la forza si moltiplica quanti sono i componenti. Fare parte di una squadra speciale, devi pensare per tre, quando ti senti forte spingi gli altri, viceversa quando ti senti debole hai su chi contare, racconta Alessandro. E giovani campioni che hanno gi dato prova del loro valore sia individualmente che nelle formazioni delle varie classi de, insieme arrivano a contare uno bronzo mondiale, dieci medaglie europee, di cui tre titoli, svariate pod internazionali e titoli italiani. Nemmeno due settimane fa hanno affrontato nel migliore dei modi la prima apparizione nel circuito internazionale più importante del karate mondiale vincendo la Premier League di Rotterdam e illuminando d'azzurro il cielo d'Olanda. Oggi si ritrovano ad essere ufficialmente la nuova squadra Signores pronta a rappresentare l'Italia in campo internazionale. Primo obiettivo. Gli imminenti campionati europei di Novi Sed, in Serbia, dal 10 al 13 maggio. La squadra in azione durante la finale della Premier League di Rotterdam. Ragazzi, prima prova internazionale superata la grande, panagia, e avevamo solo otto allenamenti alle spalle, abbiamo fatto una bella gara. Aver raggiunto quel risultato stato importante e siamo convinti che, con un altro mese di allenamento, quello che manca agli europei, NDR, raggiungeremo un livello ancora più alto. Gallo. L'oro di Rotterdam ci ha confermato che tutti e tre abbiamo la mentalità vincente, io me l'aspettavo, nonostante le poche prove siamo saliti sul tatami convinti di poter fare bene e cosa stato. Pio dice, assolutamente. Iniziare con una vittoria, battendo tra l'altro le squadre più forti, ci dà una grande fiducia, ed è quello che ci serviva. Quindi, obiettivo vincere il titolo europeo, panagia, in questo periodo di avvicinamento ci vedremo a settimane alterne per poi affrontare un ritiro di 20 giorni prima della rassegna continentale. Nel mezzo ci sarà la tappa Arabat, Mar, della Premier League. La testa L, ai campionati europei, il primo importante passo e siamo sicuri di poter fare bene. La squadra in azione durante la finale della Premier League di Rotterdam ha comnato l'amore per il karate, io dice, mio padre il mio maestro, mi ha portato in palestra a quattro anni, all'inizio volevo solo giocare e disturbare gli altri, poi stato amore. Panagia, anch'io ho iniziato a quattro anni. A mio padre sempre piaciuta questa arte marziale, ma non ha mai potuto praticarla, cosa ha trasmesso a me questa passione. Gallo, io a cinque anni per caso, a scuola facevano dei corsi. Ho girato molte palestre, le prime non erano nemmeno nella Filcam, poi nel 2009 ad uno stage di Luca Valdesi, ex campione del mondo, ora membro WKF, ndr, ho conosciuto Vincenzo Figuccio, team coach azzurro, ndr, e da L partito tutto. E quando vi siete conosciuti voi tre? Io dice, nel mondo del karate ci conosciamo tutti, ma avendo anche hit diverse ci siamo incrociati più spesso quando anche Gianluca e Giuseppe sono diventati signores, cosa ho potuto apprezzare meglio il loro valore. Ovviamente ci siamo avvicinati di Pi nell'ultimo periodo proprio per la squadra e siamo diventati subito amici, siamo molto affiatati sia nello sport, che nella vita. In Pi, per quanto riguarda il kata, abbiamo uno stile molto simile e questo ci rende tutto più facile. La squadra con il coach azzurro Vincenzo Figuccio, ex campione del mondo a squadre, qual il segreto per essere una squadra vincente? Io dice, si devono condividere amicizie e obiettivi. Fare parte di una squadra speciale, in un certo senso ti carichi di responsabilità verso i tuoi compagni, quando ti senti forte devi essere il primo a spingere e a tirare a te gli altri, viceversa quando ti senti debole devi essere cosciente di poter contare su altre due persone. La fiducia importante, Gallo, Concordo, quello che si crea in una squadra incredibile, basta uno sguardo per capire la situazione emotiva dell'altro. Se si davvero uniti non serve dire nulla, ma lavorare sostenendosi a vicenda. Panagia, il risultato di Rotterdam, in cos poco tempo, g sintomo di un feeling molto forte tra di noi, in caso contrario non avremmo mai trovato la giusta formula vincente. L'Italia del Karate con Lucio Maurino, Luca Valdesi e Vincenzo Figuccio, vostro attuale coach azzurro, ha avuto la squadra di Kata.